Paolo Gozzi in diretta con noi, ciao Paolo, buonasera intanto ti riporto i complimenti del presidente Sebastiani alla gara d'esordio davanti a 12.000 spettatori hai fatto una più che positiva partita sì sì, sono contento innanzitutto dell'opportunità del mister sono contento per la partita dei miei compagni e di com'è andata, adesso subito testa al ritorno la partita, raccontaci è stata una partita all'inizio un po' difficile prendiamo il gol dopo un minuto o due minuti però la squadra è stata brava a non crollare e niente, siamo andati all'attacco e con le trame di gioco del mister siamo riusciti a pareggiare poi forse è venuta un po' di stanchezza non siamo riusciti a tenere tanto palla ma il risultato è buono e quindi dai, siamo contenti testa al ritorno la sensazione, almeno vedendo la partita dagli spalti che tu avevi molta gamba e la possibilità di attaccare non dico facilmente ma di mettere in difficoltà Garattoni come mai ti sei spinto poco lì? no, non è che mi sono spinto poco ho preferito essere solido difensivamente all'inizio perché comunque da un po' che non giocavo e poi comunque col tempo poi le mie qualità offensive verranno fuori metterai in difficoltà Zeeman da giovedì? io provo sempre ad allenarmi bene io rispetto ogni scelta del mister quindi io sono pronto poi sceglio il mister e niente da dire grazie a tutti